Condanna delle violenze anti-TAV Convegno di storia militare Torino e il Piemonte ospitano dal 1 al 6 settembre il 39esimo congresso della Commissione Internazionale di Storia Militare sul tema le operazioni interforze multinazionali nella storia militare. Nel corso dell'evento svolgono le loro relazioni storici militari provenienti da 36 nazioni di 4 continenti. Per l'occasione è stata allestita alla Biblioteca Nazionale Universitaria la mostra fotografica I volti dei militari italiani, i valori della patria in un'immagine. Settimane musicali di Stresa I presidenti del Consiglio regionale della Giunta Valerio Cattano e Roberto Cota a Stresa il 28 agosto hanno consegnato due riconoscimenti al presidente dell'Associazione Settimane Musicali Giovanni Medeot per il suo sostegno alla cultura musicale e al direttore artistico del festival il maestro Gianandrea Noseda per il suo costante impegno artistico. E' seguito il concerto della Stresa Festival Orchestra diretta da Noseda che celebra il decimo anniversario della sua fondazione. Contest sui dati pubblici della regione Raccontare i 40 anni di storia della regione attraverso i dati pubblici è l'obiettivo di Piemonte Visual Contest, concorso per designer, sviluppatori, scuole e aziende realizzato dal Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con il consorzio Topics. Il concorso che prenderà il via a settembre si divide in due categorie, infografica e visualizzazione dati e premierà i migliori tre lavori di ogni categoria. Piffetti, ebanista del re Preziosi mobili intersiati e lavorati saranno al centro della prima mostra monografica su Pietro Piffetti, il re degli ebanisti, l'ebanista del re, che la fondazione Accorsi Ometto di Torino allestirà dal 13 settembre al 12 gennaio 2014 nella sua sede. Una parte dell'esposizione sarà ospitata a Palazzo Lascaris fino al 30 novembre. Qui si potranno ammirare i due stipi con decorazioni in avorio, ignoti fino a qualche anno fa, e uno dei due tabernacoli barocchi custoditi a Benevagenna.